Il grande lavoro di uno staff tecnico e in questo abbraccio c'è veramente tutto. C'è la Siena di questi sei anni, l'ultimo possesso di questa partita dell'Olimpia che è stata brava a ritornare qui a Siena. Ma la Montepaschi aveva questo appuntamento con la storia, vincere il sesto titolo consecutivo che arriva in via ufficiale in questo momento. Montepaschi batte Olimpia Milano 84 a 73 ed entra nell'Olimpo del basket italiano. La Siena di questi sei anni, l'ultimo possesso di questa partita dell'Olimpia è stata brava a ritornare qui a Siena. La Siena di questi sei anni, l'ultimo possesso di questa partita dell'Olimpia è stata brava a ritornare qui a Siena. La Siena di questi sei anni, l'ultimo possesso di questa partita dell'Olimpia è stata brava a ritornare qui a Siena.